Vincenzo Schettini. Vincenzo Schettini è un professore di fisica, diplomato anche in materie musicali, violino, i miei complimenti, che ha una serie di canali social, YouTube e meno sociale o quel che si voglia, ha scritto anche un libro che hanno un seguito notevolissimo. Ha un successo straordinario con questi capelli, insomma, un po' vaporosi e con questo aspetto un po' da amicone dei ragazzi, un po' da quello che sta dalla loro parte. Va benissimo, va tutto, tutto incredibilmente bene. Perché ha tanto successo? Molto semplicemente perché dice delle cose che tutti si vogliono sentir dire, fondamentalmente una, cioè che se c'è un insuccesso scolastico, la colpa non è mai dell'alunno, ma è sempre dell'insegnante. Dice che ci sono insegnanti bravi e insegnanti meno bravi, è la sindrome dell'alitizetto, non cambia mai assolutamente nulla. Eppure, eppure ha un successo incredibile, dice che la privacy non serve a niente, dice che sono delle cose così astruse, dice tante cose che sono esattamente quello che la gente vorrebbe dire a un insegnante. Il professor Schettini insegna presso l'istituto Luigi dell'Erba, credo che sia in Puglia, se sbaglio mi correggo senz'altro, ed ha sei più tre ore di insegnamento, cioè ha sei ore di insegnamento in classe più altre tre ore destinate ad altro tipo di attività. Ecco qua, Schettini Vincenzo, sei più tre, ci sono anche i nomi delle classi in cui insegna. Ora, non c'è nulla di male a insegnare per un numero limitato di ore, ad essere un supplente annuale, ad aver fatto una domanda di trasferimento, ad aver chiesto un part-time magari, assolutamente no. No, ci mancherebbe anche altro. Però, insomma, e che volete? Che i milioni di follower li abbia un insegnante come me che dice che studiare è fatica e che il successo scolastico dipende da tutte le componenti della scuola, nessuna esclusa, ma naturalmente mi mandano a quel paese, ma è chiaro, ma è chiaro, no, siete voi insegnanti che dovete trovare tutte le strategie possibili e immaginabili per riempire l'animo e le conoscenze di questi alunni, perché si dà per scontato che gli alunni siano delle scatole vuote. E allora, la prima persona che viene e dice una cosa, gli si dice bravo.